Ciao ragazze, oggi nuovo video acquisti e oggi vi farò vedere un po' di tutto c'è scappe, borse, roba di casa, profumeria quindi vi faccio vedere un po' di tutto quello che ho preso e comincio a farvi vedere le cosine di casa ho preso queste due tazzine qua, che sono tazzine da caffè sono molto belle, una c'è il guffetto e l'altra c'è i cuoricini con fiori quindi sono molto carine e ho pagato 2 euro in ognuna di queste le ho prese dal brico e adesso vendono anche cose di casa quindi c'è un po' di tutto, tappeti, posate e c'erano queste tazzine qua molto carine quindi ho preso queste due qua ho preso anche questo portazucchero non so se si dice così, da mettere zucchero quindi molto bello, trasparente, semplice non c'è niente di che, solo per comodità perché così almeno è una cosa piccolina da lasciare in tavola e ho pagato 2 euro in questo qui sempre al brico poi c'erano anche questi quadrettini qua, piccolini con vari paesaggi di vari posti e ho preso questo qua di Parigi, che è molto bello che c'è la Torre Eiffel e c'erano anche, di questi quadrettini qua c'erano anche i puffi i puffi, non so se si dice così che è quel contenitore grosso che si mette la roba dentro adesso vi faccio vedere l'ho preso così, sempre abbinato a questo quadrettino qui il quadrettino l'ho pagato 2 euro 50 e il puff che io vi dicevo, non so se si dice così è questo qui, tutto beige con la Torre Eiffel e questo qui l'ho preso da mettere le cose di capelli tipo accessori di capelli, il phon, la piastra lo metto tutto qua dentro e lo metto sotto il mio tavolo da trucco che così almeno sta bene sotto il tavolo da trucco e si può anche sedere sopra è molto morbido, sembra molto bello dietro è tutto così, beige il disegno c'è solamente qua davanti e dentro è così ci sta tantissime cose dentro, sembra questo qua ho pagato 6 euro e costava quasi 20 euro quindi ero in super affetta poi sono andata anche in questa profumeria qua che vi ho fatto l'altro video di acquisti e si chiama Beauty Factory c'è l'ipercop qua alla coppa alla fine credo che in tutte le coppa magari c'è e c'erano queste creme qua in saldo costava 1 euro ognuna e si chiama I Coloniali quindi credo che voi conoscete bene se vi piace questo marchio qua fatemi sapere se sono buone queste creme io ho preso due una c'è scritto ardente e l'altra c'è scritto sensual e c'è 200 ml di prodotto non so ancora le fragranze perché sono chiuse ma sembrano molto buone poi da cibo di moda ho preso queste scarpe qui che sono delle scarpe da tennis ho pagato 10 euro da tennis i sneakers è il numero 37 e sono queste qua sono questo colore qua un po' grigio dietro c'è una cernierina qua tutta per bellezza non è che dovete chiudere e poi c'è una cerniera qua nel laterale e anche un'altra di qua ci sono i lacci e poi c'è anche questa decorazione qui sono tutte cose decorative non serve a niente alla fine ho provate sembrano molto comode e costavano solo 10 euro prima costavano 30 euro 35 quindi era un po' care secondo me per una scarpe dai cinesi però per 10 euro ho voluto prendere poi sempre da cibo di moda ho preso due borsettine piccole tracolla una è questa qui marrone dietro c'è una cernierina qua poi si apre così c'è un zip qua e dentro è tutta floreale così a me piace perché è larga quindi ci sta il portafoglio dentro e le altre che ho di Carpisa per esempio sono tipo metà e non ci sta il portafoglio questa qui ho pagato 6 euro c'erano anche altre quella in stilo con le frange che vanno di moda però era 1,50 euro solo che non l'ho ancora non l'ho più trovata ho visto quando l'ho vista non l'ho presa e poi non c'era più ho preso anche questa qua che è lo stesso colore della scarpa più o meno c'è questa cerniera qua davanti così che si chiude con la calamita poi si apre è bella questo colore metallico qui e dentro è tutta così metallica c'è anche questa la tracolla e questa qui ho pagato sempre 6 euro c'erano altre che costavano tipo 3 euro 2 euro ma non avevano la tracolla allora non ho voluto prendere vi ho fatto vedere tutto questi sono stati i miei acquistini vi faccio vedere poco alla volta così almeno riesco a farvi vedere tutto in un video che non sia troppo lungo se vi è piaciuto il video mettete mi piace così mi aiutate a divulgarlo e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao